Miei carissimi, salve! Allora, oggi per chi è premetto, per chi fosse arrivato per la prima volta qui sul mio canale mi vedete bloccata purtroppo per un incidente che non vi sto a spiegare nei particolari però è questo il motivo della mia costrizione ma non ci importa, non ci importa assolutamente oggi vi voglio parlare di una figura che chiaramente conoscevo ma che ho riscoperto proprio ultimamente e l'occasione di questa riscoperta è stata l'offerta delle Inaudi che aveva definito un paio di settimane fa rispetto alla possibilità di acquistare due libri ed avere un magnifico borsone vabbè, ogni scusa è buona per comprare dei libri di fatto Cesare Pavese chiaramente era uno scrittore almeno noto ma non avevo letto ahimai nulla se non per studio stralci però non sono andata a comprare quella che è la sua massima opera ovvero la luna e falo che mi riservo ad ascoltare su Audible anzi avevo iniziato ma dei testi di cui non avevo mai sentito parlare in maniera approfondita e in particolare vi parlo della casa in collina e da tre donne sole allora, da queste letture io mi sono follemente innamorata della figura di Pavese vi do un particolare il caso ha voluto che io registrassi questo video proprio il 27 agosto che è l'anniversario della morte di Cesare Pavese accaduta nel 1950 però questa morte ha anche di ulteriormente triste e nefasto e vi spiegherò la vita di Pavese è stata alquanto travagliata perché seppure nasca in un paesino delle Langhe da una famiglia benestante il padre era cancelliere presso il tribunale di Torino e la madre comunque proveniva da una famiglia si vede circondato dalla malattia dei fratelli il padre che muore giovanissimo e la madre appunto che si deve dare da fare per crescere questi figli lui studia a Torino e man mano cerca e trova il suo piacere, la sua capacità di studioso in quella che era una letteratura che stava per essere scoperta ma che scoprì e che importò in Italia proprio lui quella della letteratura americana infatti si laureò con poi una tesi su Walt Whitman e iniziò a insegnare insieme di pari passo all'insegnamento iniziò a scrivere articoli, giornali ma la caratteristica di Cesare Pavese fu quella di essere designato come un essere molto introverso, molto schivo molto difficile da gestire e contrassegnato quindi da una cupezza che tutti i suoi amici o tutti i suoi conoscenti riporteranno sempre nelle proprie testimonianze e vi rimetterò un interessante video che è stato caricato proprio su Youtube in cui si fa un ritratto meraviglioso vedrete le testimonianze di Fernanda Pivano grandissima traduttrice di Ferrarotti di Achille Occhetto addirittura la famiglia andava a fare vacanza nelle zone in cui gli Occhetto avevano delle strutture dell'abitazione ed è commoventissimo perché si nota proprio la capacità di attrarre a sé la gente di Pavese ma nello stesso tempo l'aspetto respingente che egli aveva questa sorta quindi di incongruenza di fondo il punto fondamentale qual è? i momenti emblematici della vita di Pavese furono quelli dell'innamoramento con la famosa Tina matematica e attivista politica antifascista con la quale è intrapreso una relazione molto tormentata ma che gli costò per una serie di motivi l'accusa di essere vicino a queste attività e il confino in un paese della mia calabria perché immaginate era veramente un posto sperduto nel mondo e che appunto lo portò da Torino per tre anni al ritorno a Torino scopre che la Tina la donna della voce Rauqua perché su questo si è giocato una lettera che gli era costata appunto le accuse mossegli in realtà poi si scoprirono si scoprì la verità non era stato effettivamente lui ad essere responsabile dell'evento in particolare ma scoprì appunto che questa donna si era unita con un altro uomo quindi inizia questa sua fase già tormentata ma continua ad acquirsi nel frattempo scrive tantissimo nel frattempo inizia ad essere il punto di riferimento della Einaudi come traduttore della letteratura americana Fernanda Pivano in quella testimonianza racconta proprio del suo acume della sua voglia di far capire la differenza tra letteratura inglese e letteratura americana quindi diventa il traduttore di Faulkner diventa il traduttore di Spurriver dei più grandi sino a che inizia un'altra relazione e un'altra ancora quella magnifica quella che poi lo porterà a toccare le vette con una delle sue più grandi poesie ovvero Verrà la morte e avrai i tuoi occhi con Constance Dowling Constance Dowling venne in Italia con la sorella Doris in occasione di un film che stava per essere girato il famosissimo riso amaro sul set lei che non aveva avuto tantissimo successo in America fino a quel momento venne in Italia e ebbe un ottimo risconto Dalle testimonianze Pavese si innamorò follemente di questa donna non solo perché era bellissima metterò delle foto ma perché lui si capisce che è stato sempre attratto molto dalla mente delle donne ma perché conosceva Shakespeare a memoria tutti coloro che li vedevano insieme avevano affermato proprio che lui era molto attratto dalla mente di questa donna solo che questa storia fu ulteriormente travagliata e oltre alla depressione che Giallo contrassegnava tant'è che degli amici dicevano ma noi lo avevamo sentito parlare per tutta la vita poi e l'ultima volta mandò delle lettere uno di questi grandi uomini tra l'altro perché lui ebbe rapporti con numerosi intellettuali disse ma si fallo che cosa purtroppo il 27 agosto del 1950 Cesare Pavese si suicidia si toglie la vita e quindi conclude quello che è la sua esistenza con un pensiero ricorrente ma i libri di cui vi voglio parlare e in più vi voglio consigliare un film sono appunto La casa in collina che è un meraviglioso spaccato della storia diciamo nel periodo della seconda guerra mondiale appunto con tutti gli accadimenti relativi all'ascesa di Mussolini siamo più sul finire sul terminare però è proprio la storia di questo professore che appunto ricorda un po' a modo di autobiografia Pavese che si colloca su questo territorio e interagisce con vari personaggi in particolare con queste due donne che lo accolgono e con una con la quale aveva avuto una relazione tempo prima e che ritrova però tutto contrassegnato dall'inizio del terrore della ricerca dei dissidenti della guerra delle sue fughe e di tanti accadimenti relativi proprio al periodo della seconda guerra mondiale è molto molto intimo molto malinconico ed è per molti versi struggente e la casa in collina perché lui ricorda e si colloca questo suo operato su questa collina che tra l'altro ricorre spesso nei racconti di chi lo ha conosciuto cioè queste zone in collina in cui viveva i momenti diciamo più spensierati con i suoi amici i suoi colleghi i suoi conoscenti bellissimo libro ma il libro che più mi ha colpito è questo Tra donne e sole Tra donne e sole ripercorre una Torino degli anni 60 quindi in un contesto completamente diverso ed è all'interno di una trilogia che ripercorre la borghesia di quel tempo in cui si ha io mi sono meravigliata per la modernità di queste donne ma anche l'amarezza figuratevi che in questo libro la protagonista è una donna che è diventata ormai una sorta di manager un punto di riferimento per una catena di abbigliamento romana che ritorna a Torino in realtà lei era nata a Torino e si era trasferita a Roma e quindi diventa questo punto di riferimento per aprire un punto vendita ritorna lì per lavoro in questo caso lei ripercorrerà la sua infanzia e percorrerà la Torino del momento in cui torna con il disincanto di una donna che ha voluto dedicarsi al lavoro che è disinteressata se non ecco disinteressata più che altro al matrimonio non chiaramente alle relazioni umane perché vedrete che intreccerà una relazione con una persona che è tutto fuorché qualcuno al quale attaccarsi economicamente e incontrerà questa serie di donne molto diverse da lei però con le quali avrà dei rapporti di amicizia con un antefatto ovvero quindi ricorre di nuovo questo tema il primo momento di arrivo a Torino è contrassegnato dalla notizia del tentativo di un suicidio del suicidio di una ragazza che è proprio nell'albergo in cui lei soggiorna e qui ci sarà poi la possibilità di conoscere queste altre donne con le quali interagirà perché poi la ragazza viene salvata ma vedrete il finale meraviglioso le interazioni tra le donne si parla della questione di figli è una Torino molto contemporanea immagino a quell'epoca in un piccolo paesino della mia Calabria o della Sicilia più profonda del meridione questo tipo di contesto non si sarebbe trovato forse se non in rarissimi casi in città mi viene in mente e tra l'altro ne parlerò di Simonetta Agnellorbi che negli anni 60 addirittura va a Londra ecco però stiamo parlando di persone agiate e in questo caso siamo nella media borghesia è un libro struggente anche questo meraviglioso dal quale Antonioni ha tratto un film che vi segnalo potrete trovare su Rai Play intitolato Le Amiche lì ho visto qualche piccola differenza ma è un film lei è meno dura è più dolce qui è molto più consapevole e una cosa vi voglio segnalare in questo libro ci sono due lettere di Italo Calvino però vi dico Italo Calvino è severissimo dice questo romanzo l'ho letto con piacere ma non mi è piaciuto sul finire poi vedrete che Cesare Pavese risponde in maniera altrettanto piccata ma l'ultima segnalazione è la lettera di Calvino che aveva 26 anni all'epoca io credo fosse un intellettuale che stava per avere la sua foga quindi la sua foga di colui che deve intervenire con la sua mentalità culturalmente eccellente però voglio dire anche con toni forse un po' troppo affrettati però alla fine infatti Calvino parlerà di Pavese come di colui che nella tragicità ha scritto opere meravigliose e scrive una lettera ad Antonioni dicendo avevo paura del fatto che lei riportasse Tra donne e sole al cinema invece è stato eccellente così come insomma ha fatto intendere l'opera di Pavese seppure non fosse proprio nelle sue corde più che altro ma è meravigliosa questa testimonianza io vi raccomando di riscoprire questo scrittore perché ne vale la pena io chiaramente approfondirò con le sue più grandi opere me lo auguro magari non nell'immediato e vi abbraccio e a presto ciao